Salve a tutti, sono Fabrizio Nocera, lavoro all'Istat presso l'ufficio territoriale Aria Sud con sede in Molise. Mi occupo in particolare di diffusione e di analisi territoriale e vi presento un lavoro circa lo spopolamento e l'invecchiamento della popolazione in Molise. Questa slide, attraverso il grafico lineare, vuole evidenziare l'andamento temporale della popolazione regionale dal primo censimento del 1861 all'ultimo del 2019. Possiamo dividere l'immagine in due settori temporali, il primo che va dal 1861 al 1951 ed il secondo dal dal 1951 al 2019. Per quanto riguarda il primo lasso temporale, si può notare come la popolazione aumenta, salvo gli anni 1911-1931, dove si è registrata una piccola flessione dovuta ad un primo flusso migratorio che ha interessato la regione. Il secondo periodo, al contrario, è caratterizzato da una forte flessione della popolazione, in particolar modo per il periodo post-Seconda Guerra Mondiale, 1951-1971, dove, dopo la ripresa dell'attività censuaria dopo la pausa bellica, il Molise ebbe il massimo storico con oltre 400.000 residenti, ma che poi, a causa di una seconda ondata migratoria, ha subito una perdita di oltre 87.000 residenti. Dall'ora in poi, salvo un piccolo aumento negli anni 1971-1991, la popolazione ha subito una costante decrescita. Questo cartogramma indica la differenza di popolazione residente dal primo all'ultimo censimento. In rosso sono indicati comuni che hanno fatto riscontrare differenze negative, in blu, al contrario, quelli con differenze positive. Come si può notare, la maggioranza dei comuni, in special modo nelle cosiddette aree interne, hanno subito una flessione nei residenti nel tempo. I comuni che hanno ottenuto un aumento di popolazione, analizzando i dati geostatistici, sono quelli dei quattro grandi comuni molisani, Campobasso, Termoli, Isernia e Venafro, e quelli dei comuni limitrofi a queste zone. L'evidenza maggiore è rappresentata dalla fascia costiera che vede Termoli come centro trainante. Le ragioni di questa crescita si sostanziano in fattori climatici e altimetrici, che favoriscono lo sviluppo agricolo, che proprio in questa zona è il più fiorente. Lo sviluppo economico è dato invece dal polo industriale che vi è proprio a Termoli e che è il più importante della regione. Fattore non secondario da considerare è che quest'area è attraversata dalle grandi vie di comunicazione, come l'autostrada e la ferrovia ad alta velocità. Questa slide mette a confronto la densità abitativa molisana ai censimenti 1861 e 2019 per comune. Nei due cartogrammi le prime tre classi di densità sono uguali, con la differenza che nel grafico del 2019, che visualizzate a destra, è stata aggiunta una classe che in pratica riguarda solo i quattro comuni molisani citati precedentemente. Quello che è importante notare è che nel corso del tempo si è avuto un complessivo spopolamento nelle aree interne della regione, con il conseguente inurbamento importante attorno ai quattro grandi comuni molisani, che sicuramente hanno offerto più possibilità lavorative e più servizi ai cittadini. I due grafici di questa slide rappresentano la popolazione per classi di età negli anni 1861 e 2020. La rappresentazione di questo tipo di immagine è così chiamata perché il risultato finale dovrebbe configurare una piramide con una base solida che somma le ha più giovani e che si assottiglia man mano con l'età più mature. Nel 1861 la configurazione grafica è coerente con una sana crescita della popolazione perché è caratterizzata da una maggioranza di giovani rispetto agli anziani. Nel 2020, al contrario, la figura rappresentata è un parallelepipedo con una base stretta che non può reggere il peso demografico delle fasce di età più avanzate e che evidenzia una crescita non sana della popolazione dove non c'è ricambio generazionale ed è il segno tangibile di un invecchiamento della popolazione. Questo grafico lineare visualizza l'andamento dei bilanci demografici della popolazione in Molise dal 1972 al 2020 ed evidenzia il netto crollo degli residenti negli ultimi anni. Da notare in particolare il saldo naturale, ossia la differenza tra nati e morti, in un anno che è negativo dal 1991. Per quanto concerne l'andamento del saldo migratorio risulta essere più variegato con incrementi e decrementi, per via delle revisioni anagrafiche effettuate dopo un censimento. Anche questo saldo però negli ultimi anni risulta negativo e aggiunge decremento sul totale della popolazione, che nell'ultimo periodo sembra avere un crollo verticale. Questa ultima slide, attraverso questa tabella, mette a confronto il Molise con la media del mezzogiorno e con la media italiana, attraverso i più importanti indicatori demografici. Quello che si può notare è che dal 2002 al 2019 tutti gli indicatori risultano essere peggiorati e risultano negativi sia rispetto alla media del mezzogiorno che alla media italiana. Per rispondere quindi alla domanda iniziale potremo affermare che per ora il Molise resiste, ma bisognerebbe lavorare non tanto sul saldo naturale che oramai sembra compromesso, ma su quello migratorio, quindi incrementare le iscrizioni anagrafiche e frenare le cancellazioni, soprattutto dei giovani, che in qualche modo assicurano un adeguato e necessario ricambio generazionale.